Era già stata rimpatriata ma era tornata da alcuni mesi in Italia una donna di 50 anni di origine romene bloccata a Campo San Piero dagli agenti della Polizia Locale della Federazione. Mercoledì mattina, tornata in città, la donna si era avvicinata da alcune donne al mercato per chiedere un'offerta. Identificata dagli agenti per la 50enne è scattato il DASPO urbano previsto dal nuovo regolamento di Polizia Urbana con un ordine di allontanamento di 48 ore che in caso di reiterazione della condotta potrà essere prolungato dal questore di Padova fino a sei mesi.